di questo periodo e anche di questa domenica. Andiamo al segno dell'acquario, bellissima luna nel segno della bilancia, voi siete in una fase di grande recupero. Ecco, questo è un periodo di transizione, ve lo dico, da amici dell'acquario, in cui magari qualcuno potrebbe lamentarsi perché non accadono quelle cose sperate, ma è un momento in cui riuscirete a risolvere, a sgombrare il campo da preoccupazioni, problemi e grani che vi trascinate da qualche tempo per fare un po' tabula rasa e ricominciare poi da capo quando, ma sul finire di agosto, quando Giova entrerà nel segno della bilancia, è il momento dei grandi progetti e della grande realizzazione per voi amici dell'acquario. Chiudiamo con il segno dei pesci, giornata miniatura.